Sotto c'è il disegno di un grande panettone. Buonasera a tutti. Grazie. Adesso lasciamo ai giornalisti fare un passo indietro. Un passo indietro, anche di più di un passo indietro. Grazie innanzitutto a Andrei Fermà e al parente per averci ospitato. Qualcuno che si è distratto e pensa già alle vacanze, ai monti e non si occupa di queste consulte milanesi, a parte tutti avrei capito che sono ufficialmente candidato alle primarie. Quindi io sono in corsa, ma voi siete in corsa evidentemente. Oggi diremo poche cose. Non è la serata da programmi, da grandi discorsi. È una serata per farci auguri, anche se però a breve vi comunicheremo quando invece ci vediamo a gennaio, a gennaio approfondiremo le idee, le mie idee sulle città, la nostra idee sulle città, i programmi. Ma al momento salutiamoci, facciamo degli auguri. Tra l'altro credo di aver preparato questo discorso in cinque minuti, per cui Valentina che è una delle splendide ragazze, ragazzi che stanno con me, stavi vicino, se dimentico qualcosa, me lo dici. Volevo dirvi fondamentalmente tre cose. La prima ha a che fare con quello che c'è qua, poi lo vedremo, ma in sostanza arrivo qui essendo passato, e questo lo sapete tutti, da Espo e tutti credo dobbiate sapere, dovreste sapere, ma sapete che Espo è stata un'esperienza, devo dire, per me è veramente straordinaria.